benvenuti nella rubrica del grande max come si suol dire tutti quanti mangiano ma c'è chi si nutre e c'è chi si delizia oggi deliziamoci buonasera a tutti signori qui adesso abbiamo alice fabietti e viola sanna che vi dimostreranno e vi presenteranno il secondo piatto uno scamone di vitello cotto a bassa temperatura con una riduzione di vino lacrima di moro d'alba e delle verdurine di stagione ecco vedete viola che sta tagliando lo scamone che è stato arrostito esternamente poi cotto a bassa temperatura per quattro ore e l'interno rimane sempre un po rosato con tutti i succhi con tutti i suoi sapori ecco la riduzione che è stata fatta sul fuoco ha prodotto uno sciroppo praticamente è prodotto del 50 per cento e lo mettiamo nel piatto in maniera cromatica nel frattempo lì ci ha fatto il bouquet di fagiolini sono dei fagiolini lessati e legati con un filo di erba cipollina ecco vedete questo bel vitello che rimane con un colore vivo poi ci andiamo a mettere dei cubotti di patata che sono stati precedentemente cotti una testa di fungo sempre saltato al burro olio burro e un bel bouquet di fagiolino e poi in ultimo anche per una certa cromatura del piatto un pomodoro candito poi completiamo stiamo completando con un po di erbe aromatica un bel trito profumato di timo maggiorana e prezzemolo alla fine sempre il sale e pepe di mulinello anche sulla carne sempre un pochettino di sale e pepe e concludiamo con un filo di olio extravergine d'oliva e il piatto è pronto buon appetito a tutti buon appetito a tutti